Le vittorie ottenute sul campo di battaglia avevano trasformato Roma nella più importante città del Mediterraneo. Questa centralità fece affluire nell'urbe ingenti ricchezze, i bottini di guerra dei generali, ma anche un gran numero di persone, dai semplici viaggiatori agli schiavi. Lo Stato romano, nel II secolo a.C., era talmente ricco da potersi permettere di non fare pagare le tasse ai propri cittadini. La condizione della città, almeno dal punto di vista urbanistico, non era però all'altezza della fama conquistata sui campi di battaglia, strette strade, tempi arcaici con colonne di legno e decorazioni in terracotta, ma anche la completa assenza di edifici in marmo che la facevano sembrare un rozzo abitato se confrontato con i grandi centri ellenistici. Inoltre, il repentino aumento della popolazione, in taluni periodi in modo quasi fulmineo, obbligò il Senato ad investire in strutture edilizie che potessero sostenere sia la crescita umana che quella economica. Da una parte era necessario sostenere la città con acqua e generi alimentari, dall'altra era altrettanto vitale erigere anche strutture per il commercio e per l'indotto che esso creava. La prima grande opera fu, nel 321 a.C., l'acquedotto progettato da Appio Claudio Ceco, a cui seguirà nel 272 a.C. quello Agno Vetus, finanziato interamente con il bottino di guerra della vittoria su Pirro. A questi acquedotti seguiranno poi quello dell'Acqua Marcia e l'Agno Novus, che aumenteranno sensibilmente sia la loro lunghezza che la loro portata. Quello Appio copriva 17 chilometri, l'Agno Vetus arrivava a 64, addirittura a 90 quello dell'Acqua Marcia. Tra il primo ed il secondo era stata quasi raddoppiata la portata attestandosi a 180 centimetri cubi di acqua. Queste opere, proprio per soddisfare le necessità dei cittadini, terminavano nei punti di maggiore bisogno, nelle aree più popolate come l'Esquilino, l'Aventino ed il Foro Boario. Oltre ai bisogni idrici era quindi indifferibile anche la necessità di approvvigionare di cereali e merci lurbe, ciò quindi rese essenziale rivedere strutture come magazzini, banchine, aree portuali ed empori. Le merci andavano gestite, stoccate e distribuite, i grandi depositi pubblici, gli orrea, divennero punti nevralgici della città perché, da questi magazzini, la merce raggiungeva i mercati. Gradualmente il foro romano non sarà più utilizzato per la vendita di carne, pesce e verdura ma si realizzarono fori, adibiti allo scambio di specifiche merci, in zone più vicine alle strutture del porto fluviale. Nel foro invece furono dislocate attività più strettamente economiche e commerciali, come ad esempio le botteghe dei cambiavalute. La rivoluzione però non si arresterà qui e, insieme alle funzioni politiche, l'area andrà a connotarsi come centro del commercio e della giustizia. La prima grande basilica fu voluta, nel 184 a.C., da Catone che fece creare una struttura coperta molto versatile, vi si potevano svolgere operazioni commerciali e finanziarie, vendite all'asta ma anche l'amministrazione della giustizia. L'inconvente necessità di questi spazi portò, progressivamente, ad allontanare dal centro cittadino le grandi domus patrizie, proprio per fare posto alla macchina amministrativa, economica e politica che stava rendendo Roma il centro più importante del Mediterraneo. L'impulso a questa nuova visione dell'urbe fu dato dalle grandi famiglie, dai grandi condottieri e dagli uomini più in vista della città che faranno letteralmente a gara per costruire edifici sempre più imponenti che, oltre a promuovere il loro operato, lasceranno un segno indelebile sull'impianto urbano cittadino.